che una giornalista, come fanno quasi tutti i giornalisti, che quando arrivi in un posto ti mettono un microfono sotto, non ti dicono chi sono, come si chiamano, qual è la loro testata, che ad esempio anche quello fa parte del vivere civile, io credo che non mi permetterei mai di arrivare a casa di uno e dire senza essere invitato o senza presentarmi. Allora